Gentili telespettatori, buona giornata. Sapete che questo Luciano Canfora, questo diciamo storico intellettuale di sinistra, ha diffamato Giorgia Meloni dicendo che è una neonazi nell'animo. Dice che per lui è neonazi con una teoria di un sempliciotto che fa impressione. Apro una parentesi. La sinistra che si vanta da sola di avere una grande classe intellettuale, di grandi pensatori, eccetera, eccetera, se poi i grandi pensatori sono come questo Canfora che ti dice che la Meloni è neonazi, perché l'MSI, cioè l'MSI discende, o meglio Fratelli d'Italia discende dall'Alleanza Nazionale, l'Alleanza Nazionale discende dall'MSI, l'MSI si rifaceva al fascismo, che il fascismo nell'ultima parte della sua storia viveva nella Repubblica Sociale Italiana che era stata voluta dal dittatore tedesco e pertanto la Meloni discende dal Terzo Reich. No, avete capito? Quindi è neonazi per tutto questo discorso della Repubblica Sociale voluta dal dittatore, quindi la Meloni è neonazi. Come vi dicevo nel video precedente, allora la Schlein è una neo-staliniana, perché nel PD c'è dentro il Partito Comunista Italiano che si rifaceva il comunismo dell'Unione Sovietica, nell'Unione Sovietica c'era Stalin, allora la Schlein è una neo-stalinista. È una stupidaggine che solo a raccontarla viene da ridere, ma c'è la seconda parte, attenzione, neonazi nell'animo, nell'animo, e lui spiega che nell'animo è una citazione da Tocqueville, e vedete cos'è una serie televisiva, che ammette, Tocqueville, che il suo animo è contrario alla democrazia, quindi l'animo della Meloni è contrario alla democrazia, riferendosi a una parte di sé interiore non predominante. Ma avete sentito la stupidaggine? Adesso poi la spieghiamo meglio. Tutti abbiamo delle pulsioni più o meno confessabili, che dominiamo con la ragione. Quindi, hai capito? Allora, nell'animo della Meloni c'è una parte non predominante, ma c'è una parte contraria alla democrazia. Questa parte non predominante la Meloni la tiene a bada con la ragione. Quindi, o parte della mia anima che vorresti una dittatura, stai lì, perché io con la ragione ti devo reprimere, dice, no, no, facciamo una dittatura. No, 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 parte non predominante dell'anima mia, stai zitta, perché con la ragione non possiamo instaurare una dittatura, e allora io che ragiono, Meloni che ragiono, tengo a bada questa parte minoritaria della mia anima che non è democratica. Avete capito che razza di spiegazione, sinceramente, andare in tribunale a raccontare queste giustificazioni, credo che il giudice dovrebbe ribaltarsi dalle risate e dirgli, guarda, 40.000 euro di multa e smettila di dire stupidaggini, vai a casa e smettila di dire stupidaggini, o perlomeno non dirla in pubblico. Ecco, dovrebbe finire così, ma non credo che finisca così. E' come se a lui dessero dello stalinista nell'animo, dove nella sua parte non predominante lui sarebbe per l'instaurazione di un regime comunista, però la tiene a bada, perché con la ragione lui invece dice che dobbiamo stare in democrazia. E' la stessa cosa che potresti dire anche a Lashlein, che nel suo animo non predominante c'è il no alla democrazia, però la ragione gli impone... Cioè, capite la vera stupidaggine che è stata detta? Bene, ma senti, eh... Dice così. E se a lui dessero dello stalinista nell'animo ne sarebbe contentissimo, perché lo sono, mentre altri pensano che sia un insulto. In Inghilterra fino a un secolo fa democratico era una parolaccia, perché significava rivoluzionario. Insomma, i tempi evolvono, ecco. Poi nota il filosofo, insomma, a fare il filosofo così sono capaci tutti, eh. Anch'io posso fare il filosofo dicendo queste fesserie. Un grande filosofo, no? Io filosofeggio tutti i giorni, quindi. Bene. Nota lui, questo intellettuale di sinistra, che la Meloni fatica a definirsi antifascista. E passata in pochi anni, dice, da una posizione filorussa a una filoucraina. All'interno delle forze ucraine c'erano anche componenti neonaziste. La mia definizione in un convegno voleva fare un riferimento anche a questo aspetto. Quindi, se la Meloni è neonazi nell'animo, lo si deve anche al fatto che adesso sta con l'Ucraina, dove c'è, secondo il filosofo, un battaglione neonazi, quindi la Meloni, stando dalla parte dell'Ucraina, è neonazi nell'animo. Con questa definizione anche Macron, neonazi, anche Biden, tutti gli alleati della Nato sono tutti neonazisti nell'animo, perché se stanno con l'Ucraina, che lì dentro c'è un battaglione che viene definito così, allora sono tutti neonazi. Questo è il classico caso di quando vuoi dire che una parte politica fa schifo e allora prendi tutte le cose e le giri a tuo favore. Facendo dei ragionamenti, in questo caso, davvero sempliciotti, diciamo che questo signore, filosofeggiando in questo modo, dimostra un sempliciottismo, veramente una superficialità davvero, davvero marcata. Ecco, io non sono un filosofo, non sono un grande intellettuale, però un ragionamento di questo tipo fa davvero ridere. Fa davvero ridere. Ecco, grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci e grazie.